Ciao a tutti, sono Giorgio Dele Bovici, studente di Senza Storica Cassano Università Fatale di Milano, dalla quale sono appena uscito, dopo l'immesimo esame. Sto aspettando qui il treno presso Milano-Cadorna, dove è nato il mio racconto con il quale partecipo al premio Chiara Giovani 2016, il tempo del ricordo. Qui è nato il mio racconto e qui spero che nasceranno nuove parole ancora. Basta scoparle dietro gli angoli giusti e lasciarle respirare. A presto, ciao!